Bene cari amici, buongiorno a tutti, mi volevo mettere al corrente dell'arrivo questa settimana della nuova serie della Superba Feeder e Match 21. Queste canne sono riconosciute per essere state in Europa ben venute e ben utilizzate da tutto il nostro pubblico e hanno un blank, un fusto di una rigidità e di una rapidità estrema. Come migliorarne la reattività? Niente, semplice, utilizzando lo stesso e assolutamente lo stesso blank delle precedenti abbiamo deciso di utilizzare questi anelli che sono particolarmente leggeri e privi della pietra interna, quindi si ha una reattività della canna in fase di ferrata notevolmente superiore alle precedenti. I cimini sono stati cambiati nella colorazione, hanno una colorazione multicolor, bianca e gialla e sono stati tutti montati nella direzione della schiena, quindi quando il cimino piega l'azione della vetta è assolutamente armoniosa e segue le tirate dei pesci. Questo è un prodotto che si presenta già disponibile dalla prossima settimana, potete trovarlo in Spagna dal nostro distributore Romera ed ha come caratteristica l'assortimento in quattro dimensioni differenti. Niente, era soltanto perché è una chicca e la volevamo presentare in anteprima in modo tale che gli appassionati di questo prodotto possano verificarne la validità ed entrarne in possesso se lo preferisco. Grazie a tutti, buona competizione.